Il Centro Senologico Osoma di Ortona sta coordinando le Breast Unit della Regione Abruzzo in un programma internazionale di sperimentazione nella cura dei tumori chiamato PONDX. Lo studio si basa su un test genomico che valuta 21 geni in grado di predire e quantizzare la probabilità di recidiva tumorale entro 10 anni dall'intervento chirurgico. Il test è inoltre in grado di identificare le caratteristiche dei tumori e quali pazienti avranno un reale beneficio dalla chemioterapia. Le pazienti con tumori fino a 5 cm di diametro con linfonodi escellari indenni o con fino a tre linfonodi metastasici che esprimono i recettori estrogenici e sono negative per il recettore HER2 possono essere gratuitamente sottoposti al test genico prima di decidere la terapia post-operatoria. Dopo l'intervento sulla base del referto istologico il caso è discusso dal gruppo interdisciplinare di cure oncologiche che valuta il quadro clinico della paziente. Le caratteristiche morfologiche e quelle molecolari della neoplasia se rientra nell'ambito della elegibilità la richiesta viene inoltrata alla unità operativa di anatomia patologica dell'ospedale di Ortona. Il direttore dell'unità Domenico Angelucci spiega come il giorno successivo alla richiesta del GICO si provvede a confezionare un plico con 15 sezioni istologiche del tumore da inviare con corriere presso la sede Genomic Health in California sul cui portale è possibile verificare l'arrivo dei campioni in laboratorio. Entro i successivi 10-12 giorni una mail avvisa che l'esame è stato effettuato e ne dà il risultato. A questo punto si provvede a stampare il referto e a recapitarlo al case manager per l'inoltro all'oncologo che è in cura alla paziente. Il contratto per il test Oncotype DX è stato stipulato dal 2015 tra la ditta Genomic Health e la ASL Lancianova Stochieti. Dal 1 gennaio scorso è stato esteso anche alle pazienti operate nelle altre breast unit della regione Abruzzo, l'Aquila, Teramo e Pescara, ma resta esclusivamente ad Ortona la centralizzazione per l'invio dei campioni negli Stati Uniti e l'inserimento dei risultati nel portale in forma rigorosamente anonima.